Gentili telespettatori, buona giornata. Sondeggio Tecné, agenzia a dire, monitor Italia sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Di oggi, domenica 4 dicembre, vediamo che Fratelli d'Italia, primo partito con il 30,4%, cresce dello 0,1%, il Movimento 5 Stelle perde lo 0,2 ed è al 17,4%, il PD guadagna lo 0,2 ed è al 16,6%, la Lega guadagna lo 0,1 ed è all'8,5%, Calenda perde lo 0,1 al 7,5%, Forza Italia guadagna lo 0,1 al 7,3% e poi abbiamo i Verdi sinistra italiana al 3,3%, Europa verde al 2,5% e poi abbiamo Paragone che guadagna lo 0,1 ed è all'1,9%, altri partiti perdono lo 0,2 e sono al 4,6%. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti e grazie.